Ciao a tutti, in questo video vi spiegherò come ottenere il distintivo bananita dovete portare a termine tre incarichi molto semplici e veloci che potete fare dal menu del pass battaglia il primo incarico è azionate le valvole del vapore nella stanza di brutus quindi andiamo nella stanza di brutus e azioniamo le valvole le valvole che sono queste non vanno azionate a casaccio o in ordine altrimenti non risolvete nulla dovete azionarle in questo modo quindi prima questa, poi questa, poi questa e poi quella sotto in questo modo come vedete comparirà bananita quindi significa che la prima sfida l'avete completata bene la seconda sfida dice buttate giù il giocattolo per gatti dal tiragraffi di mea oscolo quindi andate nella sua stanza ora io il giocattolo non ce l'ho più perché l'ho buttato già giù ma sta vicino al televisore dove c'è la skin del pesce praticamente interagite con il giocattolo fino a quando non cade giù l'ultima sfida dice fonografo a manovella di mida molto semplice andate nella stanza di mida e interagite con il fonografo a destra quindi premete tante volte il pulsante fino a quando non parte la musichetta e nel quadro di brutus come potete vedere esce bananita se fate questo riceverete come premio il distintivo di bananita se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale per supportarci e non esitate a lasciare un commento per qualsiasi domanda è un commento per qualsiasi domanda